Dalla fine del 1500 ad oggi, copertine segnate dal passare degli anni o meglio dei secoli, pagine in giallite che probabilmente sono state sfogliate e risfogliate, lette e rilette, oggi però con un occhio diverso rispetto al passato, quando quelle notizie raccontate nei fogli di giornale erano attualità, mentre adesso sono storia. Alcuni testi e documenti delle biblioteche, archivi Benintende e Lanzirotti sono stati esposti all'interno di una delle sale del Palazzo dell'Ex Poste, sabato 8 ottobre. L'Associazione di More Storica Italiana ha infatti promosso la prima giornata nazionale di apertura di biblioteche e archivi privati, e così anche la cittadina nissena ha avuto l'occasione di vedere da vicino volumi e carteggi, anche se non all'interno del reale sito in cui abitualmente vengono custoditi, poiché, come si legge in una nota della sezione siciliana dell'Associazione, è incompleto il restauro dell'edificio storico Lanzirotti Benintende. Spero che si precisa ancora nella nota della Presidente della sezione siciliana attraverso questa esposizione i libri, i documenti e i carteggi scelti siano in grado di suscitare i presenti la riflessione che le dimore storiche, anche quelle collocate nell'entroterra della nostra meravigliosa isola, come nel nostro caso, hanno tanto da esprimere e possono dare opportunità di ricchezza interiore e materiale a coloro i quali scelgono di investire le loro energie in esse, malgrado le difficoltà non indifferenti. Anche Caltanissetta ha quindi aderito, così come avvenuto in altre città in tutta Italia, l'iniziativa Carta in Dimora, archivi e biblioteche, storie tra passato e futuro. Evento nazionale dell'Associazione Dimore Storica Italiane, in collaborazione con la Direzione Generale Archivi del Ministero della Cultura e con l'Associazione Nazionale Case della Memoria, nell'ambito delle manifestazioni volte a promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio archivistico e librario, si legge nel sito dell'Associazione. L'evento ha anche ricevuto il patrocinio del Ministero della Cultura, ministero che il giorno successivo ha promosso le Domeniche di Carta, che punta alla valorizzazione del patrimonio archivistico e librario di biblioteche e archivi dello Stato.